Oggi, oggi, 30 gennaio 2024, guardate la bacheca, guardate il monitor della stazione centrale di Milano, dove vado? Guardate bene, guardate bene, ma sì, ma sì, Napoli, ma no, aspettiamo un momento. A Napoli vado il 7 febbraio con il mio amico Raffaele e oggi salgo qui, salgo esattamente sulla freccia rossa, ho preso il biglietto Promotour, non è Promotour, il biglietto è in offerta, costa pochissimo e prima di 15 giorni si può avere lo sconto, anche meno. Ma guardate dove sono, io sono qua, sono salito sulla freccia rossa che mi porta, eccola, hanno ancora la mascherina, qualche d'uno, perché è necessità così. Freccia rossa, freccia rossa dalla stazione centrale di Milano, partenza, partenza, dove vado, dove vado? Tra poco ve lo dico, tra poco ve lo dico subito, è sospanza, tesa, l'importante è partire, è viaggiare, sì, viaggiare, viaggiare in questa bella Italia settentrionale e centrale per ora. Ecco che partito, ecco, benissimo, benissimo, sono Milano-Lambrate qua, vedete bene il percorso delle case di questa località, Milano-Lambrate, poi parto, parto e raggiungo a sorpresa oggi. Milano-Rogoredo sono qui, ma che bello, che bello, si ferma, no!